Ciao a tutti, io sono Francesca e oggi McBank dove vado a mangiare, facciamo colazione assieme appunto, vado a mangiare tre di questi o due, vabbè adesso vedo dovrebbero essere col cioccolato, spero sono alla crema chantilly credo però sono buoni lo stesso è che è sempre un indovinarci perché non c'è mai scritto sopra, per esempio qua l'unica cosa che c'è scritta è non codificato gastronomia non c'è scritto il gusto tra l'altro questo sarà il primo video del 2024 che io caratterò nel 2024 e soprattutto il primo McBank quindi buon anno anche se qua comunque è il 27 luglio 2023 però mi sto portando avanti con i video perché se tutto va bene da settembre ricomincio a lavorare quindi mi porto avanti così non lascio il canale privo di contenuti continuiamo quindi quando il mangiare è buono si parla poco peccato che non sono al cioccolato perché io preferisco i dolci al cioccolato o comunque per quanto riguarda le brioche o vuote o al cioccolato all'aldicocca da bere ho questo zero zuccheri perché bastano già i zuccheri che sono qua zero zuccheri aggiunti perché comunque ci sono quelli della frutta comunque a me l'arancia e l'arancia rossa come frutto non mi piacciono però il succo si e questo qui è zero quindi non è che ci hanno aggiunto dei zuccheri in più a me l'ancia e l'ancia rossa come frutto non mi piacciono certo che a gennaio vedere un video mac band estivo però adesso ho tempo di registrarli dopo quando comincerò a lavorare non so quanto tempo avrò perché poi comincerò a fare il lavoro che facevo prima di rimanere incinta quindi non lo so non ci sono ho dato il ciuccio mia figlia perché ormai si buttava giù da passeggine per prendere il ciuccio quindi io glielo ho pulito e poi dopo glielo ho dato comunque a proposito di san benedetto visto che questo che da san benedetto sapete che lo stesso stabilimento della san benedetto in italia produce la pepsi a livello italiano ok come al solito come in ogni mac bang non può mancare questo caffè vegetale allora che poi non è caffè vegetale che cosa di cose però con latte vegetale perché l'altro è famosissima per produrre il latte di soia latte di mandorla latte vabbè ed è una marca che usano anche in molti bar il figlio è tenuto il ciuccio speriamo che me lo richieda quindi è anche quello che io uso a casa mia che il latte di soia fantastico quelli dell'altro per me è imbattibile non so quello di altre altre marche perché io ho cominciato a berlo in gravidanza il latte di soia e ho preso quello dell'altro questo non è latte appunto c'era scritto così oppure prendevo quello espresso barista una cosa del genere ho così finito avevo voglia di caffè però voglio dire che un pochettino questi caffè qui che poi io praticamente li bevo solo quando faccio i mac bang però mi stanno un pochettino stancando vabbè allora vi faccio gli auguri di buon anno anche se mi sembra strano perché mancano ancora quasi cinque mesi alla fine perché comunque manca veramente poco e detto questo io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video ciao